Il principale protagonista di questa settimana è stato il vento, che ha determinato un importante rimaneggiamento della neve, in particolare sui settori di confine, ma in generale su tutti i settori fino alle Alpi Liguri. Sui settori di confine, dalle Alpi Le Pontine Nord, dalle Alpi Marittime Occidentali, abbiamo registrato delle nevicate, anche abbastanza importanti come quantitativi cumulati, che hanno raggiunto anche valori intorno al metro, soprattutto sulle cozzie nord, sulle Alpi e sui settori settentrionari. Queste nevicate, associate al vento, hanno formato diversi accumuli di spessori anche importanti, che sono facilmente anche staccabili al debole sovraccarico. L'attività valanghiva spontanea di questa settimana è stata legata principalmente alle nevicate, associate al vento, quindi i lastroni superficiali di neve recente. Questi sono stati generalmente piccole e medie dimensioni, ma talora anche grandi, singolarmente ci sono state delle valanghe molto grandi, che hanno raggiunto zone anche di fondo valle. Si segnalano ancora valanghe di fondo per scivolamento alle quote medio-basse fino a 2000-2200 metri, ma localmente anche singole valanghe a quote più elevate. La rimonta dell'alta pressione garantirà cieli sereni e zero termico in aumento. Le condizioni di stabilità del manto nevoso migliorano progressivamente e il pericolo valanghe è atteso in graduale diminuzione. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a consultare il bollettino valanghe. Vi auguriamo un buon fine settimana.